Buongiorno a tutti, finisce il mese di settembre ed eccoci con il riepilogo di quello che ho incontrato lungo la mia strada di lettrice. È stato un mese un po' strano, ho letto un pochino meno del solito perché sono stata in gito, ho avuto molti impegni extra, però un po' di letture ci sono. E allora parto da un esordio narrativo molto particolare, quello di Michael Bible, raccontato molto online, devo dire, in queste settimane. L'ultima cosa bella sulla faccia della terra è un libro asciuttissimo, un libro di poco più di cento pagine in cui però l'autore riesce su piani temporali diversi a raccontarci la vita nella città di Harmony. Città che ha un nome assolutamente opposto a quello che la sorte le riserva perché in questa città c'è un evento che è rimasto nella memoria collettiva o meglio una sorta di terribile dramma dal momento che un ragazzo si è dato fuoco ma nel cercare di darsi fuoco in realtà ha dato fuoco alla chiesa dove si trovavano i fedeli e ha causato la morte di 25 persone. Sentiamo la sua voce ad esempio tra le mura del carcere in attesa dell'esecuzione capitale, ma sentiamo la voce anche di chi è rimasto e di chi ovviamente ha avuto delle perdite in quell'evento. È un libro molto particolare, un libro, ripeto, di una grande asciuttezza, di una grande misura, sorprendente come esempio. Non griderei, ecco, al capolavoro ma sicuramente è un libro da leggere per capire dove sta andando la nostra letteratura. Altra lettura breve e estremamente d'impatto, 25 di Bernardo Zannoni. 25 è l'età del suo protagonista che sta cercando la sua via nel mondo. Questa è una formazione ben difficile da portare a termine perché effettivamente il passato di questo ragazzo è stato segnato da un lato dalla solitudine, dall'abbandono sia della madre che del padre e anche la figura della zia che è una figura molto positiva non è bastata nel dare al nepote il desiderio di trovare effettivamente ad esempio una professione fissa. Gero, questo è il nome del protagonista, vivacchia, vivacchia girando nel paese, andando a quello che è il bar di riferimento dei giovani, di tanti altri giovani che come lui stanno provando a barcamenarsi. Intanto incombe questa data, la data del suo compleanno, che sembra segnare simbolicamente il desiderio di una svolta. Ma la svolta ci sarà? Per capirlo dovete leggere un libro che ha alcune parti estremamente divertenti e altre più piene di solitudine, di dubbi sul futuro, ma sicuramente un libro che secondo me farà parlare anche in futuro. Conferma tra l'altro il talento nella scrittura di questo giovane autore assolutamente da tenere presente. Mi sono poi dedicata a un libro di trama invece, un libro che ho voluto leggere per ciò che avrebbe apportato a livello emotivo ma anche a livello di conoscenze. Il nuovo libro di Kemai, Dove vola la polvere, edito da Nord, si conferma infatti una narrazione serrata che porta con sé tre vicende, che sono delle storie familiari mancate, oserei dire, che attraversano gli anni e ci raccontano di un Vietnam in cui la guerra può tenere distanti per sempre, può unire, può anche far nascere il desiderio di una famiglia. Ci sono delle realtà che proprio non conoscevo, come ad esempio quella dei figli nati dai rapporti tra i soldati americani e le donne asiatiche nel periodo della guerra, i cosiddetti amerasiatici. Ecco, la loro vicenda qui viene raccontata con grande forza ma anche con una delicatezza che ormai ho imparato a riconoscere anche nel precedente romanzo di questa scrittrice davvero di talento. Proseguo con un libro che è andato dritto in classifica, come sempre d'altra parte, ed è il libro nuovo di Alessandro D'Avegna, Resisti cuore. Me ne sono occupata per un'intervista che è venuta tra l'altro davvero molto ricca sul Libraio, perché questo è un libro che fa nascere domande, c'è poco da fare. Devo dire che proprio già durante la lettura ho segnato, sottolineato, preso appunti su ciò che avrei voluto chiedere ad Alessandro D'Avegna, che tra l'altro è stato generosissimo nel raccontare il libro, ma anche nel raccontarsi, perché infatti non si parla soltanto di Odissea, ma anche dell'Odissea che ci aiuta a capire noi stessi, a denunciare addirittura in anticipo alcune cose che possiamo provare nella nostra vita. Ci insegna a sentire, ci insegna a riconoscere e anche a riconoscersi all'interno del proprio destino. libro intenso, anche piuttosto corposo, quindi se volete leggerlo dedicategli un po' di tempo, anche perché secondo me è bello da leggere in modo più o meno continuativo. Se doveste interromperlo troppo perdereste quel bellissimo intreccio che c'è tra il poema e la biografia dell'autore, che non esibisce se stesso, al contrario, ma va a verificare come effettivamente il testo dell'Odissea abbia funzionato per lui come un libro madre, un libro rivelatore che l'ha aiutato a rinascere a se stesso. Proseguo con un libro molto diverso, quello nuovo di Michela Marzano, un libro decisamente intenso, in cui si parla di consenso tra le altre grandi tematiche dal Me Too a tematiche ancora più recenti, che vanno a segnare la discriminazione di genere e a voler denunciare tante cose. La protagonista è Anna e quindi capite già che siamo davanti a un romanzo. L'escamotage utilizzato sapientemente, oserei dire, dalla scrittrice, è quello di piegare la forma narrativa al saggio laddove le serva. Ad esempio, Anna è una giornalista, lavora in radio, ma tiene anche dei corsi all'Università di Parigi. Questo le permette, in alcune parti del testo, di commentare fatti di cronaca, di prendere le parti delle vittime, insomma, di avere un andamento più ragionativo e meno narrativo. È un libro molto forte, lo trovate anche in audiolibro, qualora preferiate quella forma, e devo dire che è un libro che non lascia indifferenti. Non sempre si è d'accordo, magari, col personaggio di Anna, con ciò che pensa, ma non è questo l'obiettivo della scrittrice. Penso che l'obiettivo di Michela Marzano sia invece quello di aprire la nostra mente al confronto e che è una base fondamentale per riuscire poi ad abbattere tanti pregiudizi ancora presenti. Lo trovate in libreria per Rizzoli e trovate la recensione su critica letteraria. Proseguo con uno dei libri che ho aspettato di più, cioè il libro nuovo di Violardone, Grande Meraviglia, edito da Inaudi. Un talento, secondo me, davvero naturale di questa scrittrice è quello di calarsi nelle vite degli altri, di riuscire a calare anche noi nelle vite dei meno fortunati, quelli che di solito non vengono ascoltati. Qui la protagonista, Elba, è una ragazzina che si trova a essere cresciuta in un manicomio, perché è lì che è stata internata sua madre. Madre che le ha dato questo nome di un fiume tedesco, paese d'origine loro, che fa proprio sperare in una liberazione, in un suo correre al mare. Il cammino è tutt'altro che lineare, devo dire che è un libro doloroso. A differenza di altri libri di Violardone, ho fatto un po' fatica nella prima parte, non perché non mi piacesse, ma perché gli escamotage stilistici scelti dalla scrittrice mi hanno proprio comunicato con forza quel disagio che voleva evidentemente comunicare. La scelta più interessante è quella di narrare tutta la prima parte dal punto di vista di Elba, attraverso il suo diario all'interno del mezzomondo, cioè all'interno del manicomio. Tuttavia la scelta di una cantabilità estrema come quella offerta dalla rima baciata a volte risulta molto forte, a volte stucchevole, a volte infastidisce quasi, perché cozza con le verità estremamente dure che invece appartengono ai contenuti. In altri momenti si percepisce questo desiderio di trovare poesia in un mondo che è tutto fuorché poetico. Oltre a questa sezione ne troviamo altre che raccontano la giovinezza, ad esempio, della protagonista e altre ancora dedicate a Franco Meraviglia, lo psichiatra che porterà un cambiamento epocale sia all'interno del manicomio, portando con sé istanze basagliane, sia all'interno della vita di Elba. È un personaggio interessantissimo che viene poi raccontato anche durante la sua vecchiaia, un personaggio solitario per molti versi, che si trova con tono nostalgico quasi a ripensare a quegli anni, gli anni in cui tutto poteva ancora essere rivoluzionato. Devo dire che questo è un libro che ho letto molto in fretta perché si presta a una lettura estremamente avvincente, però che ho bisogno ancora di ripensare e di rimasticare perché ci sono dei passaggi davvero difficili da sopportare a livello emotivo. Ciò non toglie che confermo appunto che Viola Ardone è sempre una fuoriclasse nel calarsi nelle vite degli altri. Proseguo col segnalarvi un romanzo che riscrive l'epica. Irene Vallejo, scrittrice e filologa classica spagnola, in Il mio arco riposa muto, titolo bellissimo, uscito per Bonpiani, va a scrivere il romanzo delle Eneide, come scritto qui sotto. In realtà io proporrei quasi che riscrive il romanzo di Cartagine perché si focalizza su quello che Virgilio condensa nei primi quattro libri del poema. In particolare il suo focus va su Enea, considerato esule, quindi colui che all'interno della città di Cartagine trova tanto, trova l'amore, trova ospitalità, ma che sente di avere questo destino da realizzare anche per volontà del fatto e degli dèi. Ecco, quello che non ho capito molto bene è perché la scrittrice abbia scelto di cambiare le divinità e di dare responsabilità e quasi un ruolo di commentatore delle vicende ad Eros. Non lo so, questo proprio mi ha anche un po' disturbato. Invece è molto bella la scelta di lasciare una focalizzazione variabile e quindi di far sì che in alcune pagine fosse Enea, in altre fosse Elissa, nome cartaginese di Didone, in altre ancora la sorellastra Anna, in altre ancora altri personaggi. Addirittura ci sono delle parti dedicate a Virgilio ed è proprio il poeta a raccontarci ad esempio il suo disagio di avere questo grande compito da assolvere, quindi la scrittura di un poema romano che fosse all'altezza dei poemi omerici o che addirittura li superasse e questo suo senso invece di inadeguatezza, di non trovare la voce giusta con cui raccontare gli eventi. Il libro è estremamente scorrevole anche grazie alla scelta di adottare quasi ovunque il presente e di dare ampio spazio ai dialoghi, devo dire appunto che non mi ha proprio convinto al 100% per alcuni cambiamenti che sono dei cambiamenti che avvertiamo soltanto se abbiamo fresca la lettura dell'opera virgiliana. Alcuni possono essere effettivamente interessanti e comprensibili, altri un po' di meno, cioè io posso capire la scelta di dare meno spazio al dissidio interiore di Didone e ad esempio introdurre questa tematica di una Didone non più giovanissima che fatica a mostrarsi nuda davanti a un giovane amante, può essere una scelta. Molto bella quella di dare ampio spazio ad Anna, che è una preadolescente che non vuole crescere per tutta una serie di ragioni perché l'età adulta per una donna all'epoca comporta una serie di oneri assolutamente non desiderati dalla fanciulla, capisco meno altre cose. Chiudo mostrandovi libri in lettura. Da un lato ho questo Port Mango di Patrick McGrath, edito dalla nave di Teseo, si tratta di una riedizione che ripropone questo romanzo molto particolare di McGrath. Se avete letto qualcosa di suo sapete che va sempre a scavare nella psiche e nei rapporti umani e anche questa volta il rapporto tra l'io narrante che è sorella del protagonista e il protagonista e la moglie del protagonista è un rapporto molto particolare che lascia immaginare qualcosa di non equilibrato, ma vedremo. C'è anche tutto il mondo della pittura, c'è un mondo un po' bohemian di questi artisti che non riescono a trovare il proprio centro. Vediamo dove mi porterà. E sto anche leggendo I malarazza di Ugo Barbara, libro che mi è arrivato da Rizzoli come una sorpresa, devo dire. È un romanzo storico alle soglie dell'unificazione d'Italia. Ci sono tutti questi fermenti che traspaiono con forza all'interno della narrazione e devo dire che è una narrazione bella densa. Ci metterò un po', devo dire, a leggerlo. Forse mi aiuterò in parte anche con l'audiolibro che ho visto essere presente su Audible perché anche se il libro conta meno di 500 pagine, meno per poco, si tratta di pagine estremamente fitte, scritte in piccolo e di conseguenza è un libro più impegnativo di quello che avrei pensato all'inizio. Però è scritto molto bene, questa è sicuramente una componente a suo favore, così come il desiderio di inserire una saga familiare in cui i personaggi sono tutti molto ben delineati, almeno fino a dove sono rimasta io, alla grande storia, quindi alla storia dei garebaldini, il desiderio di unificare l'Italia, le varie pulsioni presenti, le contraddizioni, eccetera. Ve ne parlerò presto su Critica Letteraria. Tanto come vedete c'è fermento già anche per ottobre e mi sento di chiedervi cosa state leggendo voi, se il vostro settembre vi ha dato soddisfazione e se avete visto qualche cosa che vi interessa tra le mie letture. A presto!